Senza fare paragoni con Zidane e con Cristiano Ronaldo, però tra Iguain e Leonardo ho visto la stessa cosa in questa conferenza. A un certo punto si sono presi la scena loro due, a un certo punto hanno duettato loro due, si sono scambiati battute, hanno dimostrato di saper reggere l'uno la battuta dell'altro e siamo arrivati brillantemente in chiusura di questo evento a Casamina. Infatti perché quello che abbiamo detto con Caldara poi vale al contrario per Iguain, non ricordo tanti nuovi acquisti al loro primo giorno davanti ai microfoni, esibire una tale disinvoltura, mi è venuta la risposta su Icardi, gli ha chiesto il nostro amico Fabio Conte, ma come andrà a finire il duello con Icardi nel derby? E lui ha detto che non c'è neanche bisogno di rispondere, la risposta si capisce da sola, è anche un po' guascone, un po' come ce lo aspettiamo i centravanti del Milan, un centravanti neanche ventenne, un centravanti che ha 111 gol in 5 anni, come diceva Paolo Scaroni, come biglietto da visitare.